E' l'avvocato Pietro Mastro Pasqua, 41 anni, il candidato sindaco del centro-destra alle prossime elezioni amministrative di Molfetta, giovane ma dalla lunga militanza politica alle spalle. Consigliere comunale dal 2008 ha ricoperto anche il ruolo di assessore all'urbanistica e alla sicurezza. Su di lui convergono Forza Italia e Fratelli d'Italia, le formazioni Prima Molfetta, La Città in Comune, Molfetta Nostra, Nuovo PSI-PRI, più i consiglieri comunali uscenti Giuseppe Balestra, Leo Binetti, Isa De Bari, Maria Spano e Luigi Tridente. La sfida lanciata da Mastro Pasqua è alla vecchia classe politica, rappresentata a suo dire dal sindaco uscente Tommaso Minervini. Occorre un vero e proprio nuovo sistema operativo a Palazzo di Città, sottolinea l'esponente di centro-destra, ed una classe dirigente in grado di cogliere i nuovi bisogni dei Molfettesi ed esserne la risposta concreta, con capacità e professionalità. Mastro Pasqua è stato per lungo tempo assessore nella giunta guidata dal sindaco Minervini. Sei mi si fa la scelta di abbandonare l'amministrazione, senza tornarci e senza guardare indietro, sottolinea Mastro Pasqua, e soprattutto senza scendere a compromessi, ben distante da quelle logiche comode per pochi quanto infruttuose per la nostra comunità. Adesso serve un ricambio, prosegue il candidato sindaco del centro-destra, un vero e proprio reset capace di avviare un nuovo trend politico e amministrativo. L'unico modo possibile è scegliere e selezionare una nuova classe dirigente, preparata, veloce nel cogliere il mutamento in atto e altrettanto rapida nel prendere decisioni e proporre soluzioni con idee e programmi innovativi. Una classe dirigente continua Mastro Pasqua che riattivi le sinergie che a Molfetta mancano da anni, e riprenda a dialogare con trasparenza con i nuovi protagonisti sociali e imprenditoriali della città, del mondo delle arti e della cultura. Il prossimo 12 giugno Mastro Pasqua sfiderà gli altri tre candidati sindaco in campo, il primo cittadino uscente Tommaso Minervini, l'ex magistrato Pasquale Drago e il dirigente medico Giovanni Infante.